Nel confermare che effettivamente non mi sembra che ci sia stata grande condivisione, grande partecipazione almeno da parte di alcuni municipi, in realtà questo non è certo motivo per interrompere o sospendere l'iniziativa che tra l'altro non è vero che riguarda tutte le scuole ma anzi è avviata in via sperimentale soltanto in alcune scuole che sono le scuole indicate dai municipi e effettivamente alcune scelte forse non sono ideali o forse sono state scelte proprio apposta alle scuole più problematiche per sperimentare e lo dico anche in via diretta in quanto due dei miei figli vanno proprio in una di queste scuole che è stata scelta effettivamente c'è già grande confusione senza questa sperimentazione quindi probabilmente ora vedremo i genitori dovranno organizzarsi in maniera diversa quindi anche magari tramite gruppi di PE di bus vedremo insomma come si svilupperà questa che appunto è una sperimentazione ma proprio per questo motivo ritengo che non si debba fermare anzi andare avanti monitorare quali sono i primi risultati ed eventualmente come tutte le cose migliorarla quindi voteremo no a questa mozione